A domani sarà la sua ultima sera nel suo appartamento E al suo sostituto, grazie al quale la convivenza sarà uno spasso Ma scherzi? Trovo un sostituto L'idea del coinquilino donna la trovo geniale E magari anche brutta Magari invece è bella Gian, sei singolo o fidanzato? Mamma! Venite a salutare Antoine Dimmi che hai la Playstation Dittemi che non è vero Per il ciclo se la comedi Si può sapere cosa ti prende, hai dei problemi? Ridatemi il telecomando E alla fine settimana Tu, Mimì e Cocos, fai te Noi restiamo Tu, fa come vuoi In prima visione Famiglia allargata Oh, maledizione, che dolore! Questa sera a 21.20 Rai 3